Sulle sponde sta correndo parallelamente al lago di Caldonazzo verso l'Erico dove inizierà la salita finale Marco Coledan con una pedalata ancora abbastanza efficace e brillante che gli sta consentendo comunque di mantenere un ritmo veramente molto interessante dietro sembra più dimessa l'azione dei quattro sui segni e questa immagine rende più giustizia al panorama con il lago di Caldonazzo sullo sfondo e vedete le montagne del Trentino ancora innevate tra l'altro sulla salita di Vetriolo c'è ancora qualche blocco di neve ai margini della strada però per fortuna sembra che la primavera sia finalmente arrivata sulla nostra penisola ecco i quattro inquadrati certo che Coledan sta facendo un bel gesto però fra lui e la vittoria di tappa ci sono troppi chilometri di salita 13 chilometri e 100 metri con il gruppo intenzionato a giocarsi e praticamente assisteremo tra quals'istante alla prima prova di forza tra quelli che saranno i leader al Giro d'Italia i principali dei leader, intanto questa era la splendida immagine del lago di Caldonazzo con sullo sfondo Levico Terme, 20 chilometri però il GPS e la tecnologia dovrebbero essere più precisa quindi dovrebbero essere in effetti 18,7 ecco la meraviglia del lago di Caldonazzo con il suo gemello che magari avremo la possibilità di vedere tra qualche istante il lago di Levico con il gruppo quando secondo te romperanno gli indugi e andranno a prendere i fuggitivi? aspetteranno l'inizio della salita? il riprendere i fuggitivi sarà un'azione naturale che avverrà sulla spinta degli attacchi e dell'andatura che si svilupperà non appena inizieranno le dure rampe del valico di Getriolo Marco Coledana hai parlato consapevole chiaramente di non avere molte speranze che comunque si sta impegnando ed è giusto comunque sottolineare la prova di questi ragazzi quando vanno in fuga anche quando non è la loro giornata perché se il ciclismo vivesse solo di calcoli e di azioni solo ed esclusivamente ragionate non esisterebbe più la fantasia e diciamo così la voglia di mettersi in evidenza ed è importante che un giovane come Marco Coledana alla sua seconda stagione tra i professionisti invece faccia questo genere di esperienze molto spesso ci sono tanti corridori che non vedi e non vengono mai citati durante tutto l'arco della stagione appunto perché svolgono un compito anonimo senza mai mettersi in evidenza né in aiuto dei compagni né quando hanno carta bianca per tentare le loro carte ed è importante invece che i giovani si muovano in questo modo cercare fortuna, cercare di mettersi in evidenza, provarsi anche in giornate dove sanno già di non avere speranze di fare risultato quindi va sottolineata la prova sia di Savini che lo è stato e che vediamo inquadrato in questo momento sia di Marco Coledana che invece ci sta ancora provando e questo è il gruppo, d'altronde andare in fuga costa tante tante energie che poi rimangono nelle gambe per i giorni seguenti sempre comunque il team di Cerni davanti ragazzo della Repubblica Ceca 19 anni pescato dalla CCC Polsat l'anno scorso sempre in una squadra, correva sempre in una piccola squadra polacca è diverso il sistema, l'organizzazione del ciclismo giovanile rispetto all'Italia in Polonia praticamente non esiste la categoria degli under 23, dei dilettanti quindi c'è il passaggio quasi immediato al professionismo per chi ne ha le qualità per chi trova un contratto c'è un gruppo particolarmente animato di poi fans Andrea qui sull'arrivo che ha iniziato con strumenti particolari a farci compagnia ecco non comprendo perché debbano essere i miei fans e diamo la situazione ecco inquadrati prontamente con strumenti musicali originali 2.40 il vantaggio attenzione 2.40 il vantaggio di Coledan nei confronti dei 4 i 4 hanno un vantaggio di 45 secondi nei confronti del gruppo ecco i 4 inquadrati hanno un vantaggio di 45 secondi nei confronti del gruppo hanno un ritardo di 2.40 nei confronti di Coledan quindi il gruppo da Coledan ha 3.25 in questo momento 3.25 gruppo e Coledan e mezzo i 4 GPS si sta dando ora in questo momento un aggiornamento 2.53 2.53 il vantaggio di Coledan nei confronti del 4 esatto sì sì no 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 dei 4 dei 4 perché dovrebbe essere situato sulla nostra moto 2 mentre il gruppo è ripreso dall'elicottero comunque ci siamo siamo prossimi siamo prossimi e tra l'altro siamo anche prossimi all'inizio perché adesso arriveranno a Levico Terme e la strada inizia leggermente a salire anche se non è l'inizio vero della salita comunque Levico Terme è posizionata a un'altitudine superiore a quella del lago di Caldonazzo e quindi inizieranno la lenta salita ecco qua che la strada già inizia leggermente a salire mentre invece la salita vera e propria che porta a Vetriolo Terme intanto si salutano tra di loro insomma sorrisi anche perché hanno fatto una bella azione devono essere soddisfatti e poi forse adesso possono anche un po' tirare il fiato assolutamente insomma sono azioni sono esperienze che maturano che fanno e poi non dimentichiamoci cosa è successo ieri ieri è partita una fuga e adesso uno dei ragazzi che era in fuga ha lì la maglia da leader l'altro ha vinto la tappa e Rodriguez ha tante possibilità oggi di indossare la maglia ciclamino quindi insomma la fortuna aiuta gli audaci abbiamo visto Kreuziger vincere una classica andando in fuga abbiamo visto Van Summer rischiando Van Summer vincere una Parigi e Roubaix contro ogni pronostico insomma la fortuna aiuta gli audaci e i detti come diceva Giovanni Verga sono la saggezza dei popoli intanto finita finita l'esperienza di questi quattro rimane solo al comando Marco Koldan della Bardiani CSF eh ma i quattro avranno ancora tempo quest'oggi di chiacchierare perché ora si sono dati le pacche sulle spalle si sono automotivati ma non appena la natura naturalmente crescerà si ritroveranno nelle retrovie ancora vengono ancora tempo per scambiarsi le impressioni mentre vedi che tutti i grandi presenti a questa corsa insieme ai loro compagni di squadra si stanno portando in blocco nelle prime posizioni 176 chilometri di fuga fatti dai quattro Koldan quindi ne aggiungerà altri di chilometri perché ancora davanti ecco qua Lebico Terme come Vetriolo Terme siamo in Val Sugana siamo nella zona del massiccio del Lago Rai naturalmente Levico Terme famosa perché ci sono le terme utilizzate fin dai tempi dell'impero Marco Koldan ha alleggerito il rapporto Marco Koldan non è ancora iniziata la salita per lui ma questo tratto di strada che sale che porta appunto a Levico è già in questo primo tratto ha alleggerito il rapporto e sta salendo con andatura regolare perderà moltissimo terreno nei prossimi chilometri quindi il suo vantaggio ai piedi del valico di Vetriolo sarà un vantaggio più esiguo rispetto a quello che ha accumulato fino a questo momento perché come abbiamo visto dall'immagine precedente in testa al gruppo ci sono già gli uomini in nero con striscia azzurra del Team Sky CCC Polsat davanti Europe Car l'Europe Car con Pierre Roland 2.57 intanto il ritardo del gruppo nei confronti di Koldan gruppo che deve ancora arrivare a Levico Terme cosa che invece ha già fatto l'uomo in testa ecco Koldan nelle vie di Levico Terme questa mattina sono arrivato mi informavo sulla qualità delle acque delle terme ho detto quindi è un'acqua buona da bere ma hanno detto assolutamente no perché è l'arsenico è un'acqua arsenicale ferruginosa invece serve per fare i bagni i fanghi le inalazioni poi suggerivano a qualcuno se qualcuno dovesse avere una suocera simpatica allora sì però lo suggerivano i locali io mi dissocio assolutamente da una cosa del genere gruppo compatto con l'uomo in fuga gruppo compatto perché tutti i big di questo giro del Trentino sono veramente tanti si daranno battaglia adesso sulle pendici di vetriolo Terme vincenzo nibali per la stana domenico pozzovivo il detentore in carica per il giro del Trentino cade l'evans per la bnc test per cade l'evans Ivan Basso per la Cannondale Michele Scarponi per la Lampre Bradley Wiggins per la Sky Pierre Roland per l'Europe Car per l'Androni Franco Pellizzotti il campione italiano Bardiani non ha grandi corridori per le salite puri Rodriguez che ha la possibilità di indossare la maglia e intanto inizia qua la salita inizia qua la salita svolta a sinistra inizia la via provinciale per Betriolo Terme più di 13 km l'inizio è leggero a parte un tornante i primi 3 km sono abbastanza tranquilli poi andiamo per la conta Mauro Sant'Ambrogio per la Vini e Fantini poi Cardoso per la Caja Rural Serni si dovrà difendere la maglia da leader ecco qua imperme scrutabile il volto di Ivan Basso poi abbiamo Pardiglia che è ben affatto per la MTN Cubeca per la NetApp Benedetti Uzzaschi Benedetti perché sente particolarmente questo appuntamento sulle strade di casa ma anche Uzzaschi è un corridore insieme a Barta che può difendersi bene una salita del genere quindi grandi nomi ecco intanto ancora Coledan inquadrato sempre lui questo tornante per controllare la situazione dietro ha chiamato l'ammiraglia mentre qui siamo già con il gruppo che anche il gruppo sta affrontando le prime rampe del balico di Vetriolo corridori del team Eurocar per Pierre Roland nelle prime posizioni e anche il campione d'Italia Franco Perlizzotti sulla sinistra tra l'altro tra le file del team Eurocar c'è Nathanael Berane che a molti non dirà tanto però è un corridore africano etiope di grandissime qualità ed è siamo curiosi di vedere così come il Teclea Mainot se riuscirà a mettersi in mostra intanto Roland sembra intenzionato lui perché in terza posizione Pierre Roland campione francese veramente un bel dreampeer come dicono oltre alpe intanto un minuto e cinquanta ed è Malacarne che sta facendo un bel lavoro adesso sì Malacarne che è uscito velocemente da una indisposizione un attacco febbrile per lui dopo l'ottimo piazzamento alla freccia del Brabante non ha potuto difendere al meglio le sue chance all'Amsterdam Gold Race però sembra si sia ripreso in questo giro del Trentino questo oggi lo vediamo lì in appoggio a Pierre Roland Davide Malacarne vedete che tutti i migliori sono insieme ai loro compagni di squadra nelle prime posizioni velocità veramente molto alta e siamo già in salita siamo in salita anche se come ricordavamo prima questa prima parte della salita non è con pendenze importanti ma tra un po' inizierà Matteo Rabottini ha lavorato con il suo compagno di squadra Garzelli a Sierra Nevada un po' di problemi per la neve e comunque un ottimo lavoro per Rabottini in preparazione del giro di questo anche di questo giro del Trentino anche Cade Levans nelle prime posizioni Agnoli con Vincenzo Nibali al suo fianco Bradley Wiggins al fianco di Vincenzo Nibali insieme a Dario Cataldo uno dei corridori più in forma del Team Sky Rebellina anche lì nelle prime posizioni c'è sempre il sempre verde Rebellina ma il grado l'età non molla intanto primo scatto di giornata primo scatto di giornata per il compagno di Pier Rolland dovrebbe trattarsi di Cyril Gauthier eccolo qua in lo scatto di Gauthier ma credo che non abbia preso nulla risposto prontamente Rabottini mentre qui con le immagini vediamo la stanchezza di Marco Colledan che sta salendo con il suo passo rapporto leggero lo vedete anche ad occhio quanto sia diversa l'andatura di Marco Colledan rispetto al gruppo che sta avanzando invece molto velocemente ci sono già stati i primi scatti ed ecco 49 secondi quindi due minuti già mangiati dal gruppo in fortissima rimonta ecco il gruppo ed è evidente quanto diceva poco fa Martinello ovvero andatura completamente diversa ecco ci chiedevamo se avremmo visto intanto vediamo il Don Broski il giovane americano che cercava di passare il gruppo adesso scatto per il corridore della Gilles D'Ozer la mondiale subito la sua ruota anche Cameron Wurf rivediamo l'azione la Gilles D'Ozer la mondiale che ha due carte adesso da giocarsi in questa competizione Pozzo Vivo e naturalmente Max Engué dopo la splendida azione di Si è molto allungato la testa del gruppo Silvio proprio in virtù dello scatto è il Kangert della Stana che va a fare l'andatura questo è un segnale che Vincenzo Nibali sta bene però hai visto che non c'è il treno Sky davanti non c'è il treno Sky non c'è il treno Sky hai ragione questa che a mio avviso ha tutte le caratteristiche per essere una classica salita da diciamo metodo Sky ma evidentemente o c'è qualche problema per Bradley Wiggins o hanno cambiato metodo quest'oggi vogliono prima capire il livello degli avversari ed è soprattutto Vincenzo Nibali finora che sta cercando insieme ai compagni di squadra di controllare la situazione vedete ormai pochi metri di vantaggio per Marco Colletan che nel giro di una trentina di secondi verrà raggiunto e dovrà dire addio ai suoi sogni di gloria e naturalmente però va va elogiato per il comportamento tenuto quest'oggi qui tratto duro di salita e un bravo un bravo a Colletan per quanto ha fatto quest'oggi finisce qui la sua tappa e guarda cade Levens com'è lì un comporto agile e lì subito cade Levens molto sereno concentrato parlano poco si parla poco di Cade Levens soprattutto se ne parla con rispetto per il suo recente passato ma sarebbe un Cade Levens in condizione sarebbe veramente un elemento molto interessante anche nell'economia della corsa 180 km di fuga fatti da Colletan si Cade Levens tra l'altro è sempre molto sereno tranquillo una bella persona Cade Levens tra l'altro l'arrivo del bambino l'anno passato gli ha dato ulteriore serenità infatti lo ribadiva anche in conferenza stampa dice sono abituato l'anno scorso ogni volta che mi muovevo avevo orde di giornalisti ma nel ciclismo io aggiungo non solo al ciclismo basta poco e ti dimenticano tutti ma io preferisco così preferisce così d'altronde lui è nato in Australia in una zona abbastanza lontana dalle città un luogo molto selvaggio quindi ha abituato la tranquillità la serenità e sicuramente sta meglio quest'anno che non l'anno passato poi l'anno scorso ha avuto dei problemi durante la preparazione invernale che gli hanno minato tutta la stagione quest'anno invece così come Ivan Basso ha finora non avuto problemi a proposito di scalatori io ho detto Bardiani non ha grandi scalatori mi dimenticavo intanto attenzione allo scatto del corridore Duracek è giusto cosa è successo il tiralongo è andato a dire a Kangert di smettere di tirare non appena l'andatura è rallentata è scattato Duracek ed ora un Sky il corridore mi sembra Dambrovski nelle prime posizioni a fare l'andatura ma vedi non è un'andatura decisa si è voltato per capire dove erano i suoi compagni di squadra lì in testa il gruppo ma non è ancora quell'azione che i corridori del team Sky ci hanno abituato a vedere ecco qui il replay di tiralongo che va a comunicare a Kangert di togliersi dalla testa del gruppo è immediata la partenza la partenza di Duracek che stavano dicendo la Bardiani Stefano Locatelli da under 23 ha fatto delle meraviglie in salita e quindi un ragazzo che ha quelle caratteristiche andava volava veramente in salita prima o poi dimostrerà il suo valore anche tra i professionisti intanto non un ritmo altissimo però ci sono stati anche alcuni corridori che si stanno intanto la pedalata quando mancano 10 chilometri pensate 10 chilometri di salita sono veramente tanti ecco la pedalata di Duracek che adesso sarà interessante vedere se ha guadagnato nei confronti del gruppo se c'è stata la reazione del gruppo vediamo sempre la maglia nera del team Sky Aya attenzione Rodriguez Michael Rodriguez è già in difficoltà a 10 chilometri dall'arrivo e questo è un brutto segnale per il giovane colombiano che evidentemente non ha ancora il chilometraggio nelle gambe perché ieri anche le fatiche di ieri della lunga fuga di ieri può essere quella soprattutto la causa e quindi Rodriguez può essere considerata la prima sorpresa di giornata perché se si stacco così a 10 chilometri dall'arrivo difficilmente potrà tenere fede al suo proposito non riuscirà a tenere il ritmo quando si scatenerà la bagarre e la lotta non abbiamo ancora visto invece la maglia ciclamino di Cerny lì vediamo Rebellin e tra l'altro volevo scorgere anche la maglia di Bue che Bue è in grado di difendersi non c'è però vediamo Bue perché non mi sembra di averlo scorto comunque era una passaggio veloce adesso vediamo cercare il numero 5 di Maxima Bue mentre c'è Sipzov si non è Dombrovski e questo però è Roland e quindi Sipzov e Roland si sono staccati dal gruppo quindi probabilmente non c'è il solito trenino sky perché Bradley Wiggins eccolo qua è nella pancia del gruppo tranquillo e sereno di solito quando mettono i loro uomini a tirare il loro capitano è l'ultimo del treno a chiudere per eventualmente dare la stoccata nel finale ma il fatto che sia scattato Sipzov ci fa capire che non hanno nessuno attenzione Monsalve Jonathan Monsalve proprio si è scontrato per fortuna tra l'altro ha già problemi al ginocchio questo ragazzo promettentissimo l'abbiamo visto proprio ecco qua intanto la maglia ciclamino anche Cernino si si ha praticamente tamponato Monsalve andava pedalava troppo forte Jonathan Monsalve tra l'altro per lui problemi al collaterale ai legamenti collaterali perché è un corridore veramente interessante lui si mise in luce quando correva per Gianni Savio Savio andando a vincere la vuelta del tour dell'Angawi in Malesia bel corridore però ha questo problema fisico e oggi anche la caduta Pirazzi Roland e Sivzoppa in testa il gruppo corridori del Cannondale quindi Ivan Basso chiama raccolta i suoi uomini insomma quanto stiamo vedendo allora il discorso per la classifica generale può rientrare tutto bisogna vedere Bue intanto la fatica la fatica la fatica di Cerny eccolo qua certificato quindi dalla nostra dal nostro elicottero di ripresa che Cerny come supponiamo sta facendo gran fatica e si è staccato adesso è interessante seguire la corsa di testa comunque il suo l'ha fatto questo ragazzo ecco qua Bradley Wiggins pescato dalla nostra moto di ripresa tranquillo sereno non vedo Michele Scarponi dovrebbe essere là nelle prime posizioni del gruppo forse è in quarta posizione la ruota di Ivan Basso mi è sembrato che cura Ivan Basso la maglia italiana di Pellizzotti l'escorta nelle ultime posizioni del gruppo principale con tutti i migliori mentre Pier Roland Stefano Pirazzi e Costantin Sipsov cercano di approfittare di questo momento di aver avuto la forza e la capacità di cogliere di sorpresa il gruppo gruppo condotto da un corridore del team Cannondale mi sembra si del team Cannondale tra l'altro Pier Rolanda prima di andare a cogliere i successi che l'hanno reso famoso in tutto il mondo al Tour de France lo stesso anno nel 2011 al giro del Trettino una tappa che arrivava a Madonna di Campiglio fece una lunghissima fuga poi non ha potuto reggere il passo di Roman Kreuziger Popovic e Selle si staccò proprio negli ultimi chilometri vinse con la tappa Kreuziger ma già lì si mise in luce in quell'anno Roland che poi fece la meravigliosa cavalcata al Tour de France andando a prendere Sanchez Samuel Sanchez e Contadori arrivando solitario mi sembra l'Alpe d'Uezze se non ricordo Dario Cataldo alla ruota di Cameron Wurf della Canon delle Ivan Basso in terza posizione alla sua ruota Cadel Evans si scorge anche la maglia della lampra emerida di Michele Scalponi nelle prime posizioni mentre qui siamo tornati sui tre di testa Pirazzi Roland e Sivzov Pirazzi ci ha abituato agli attacchi no? ma questo è un attacco diverso dai suoi e dai e dai i reverberi l'hai istruito perché ricordava sempre il detto a Pirazzi ogni volta reverberi siccome scatta spesso troppo lontano dall'arrivo gli diceva ricordati che il cacciatore per prendere la lepre gli spara da 5 km gli spara da più vicino la saggezza cercando di anticipare anche perché va molto veloce la saggezza di reverberi ecco qua la testa del gruppo Michele Scarponi anche lui impassibile tira lungo c'è Sant'Ambrogio in questo gruppo c'è Cade Levens Cataldo un bel corridore Dario Cataldo il campione nazionale a cronometro però la cronometro dell'anno scorso in Trentino era una cronometro molto vallonata comunque fece un grande numero e per pochi secondi riuscì a battere Adriano Malori ecco Fabio Aru la nostra grande speranza per la corsa di tre settimane tra qualche anno Fabio Aru il sardo lui e Diego Rosa di cui abbiamo parlato ieri Silvio sono due grandi talenti ho la netta sensazione che stiamo andando un po' tutti con un filo di gas vero? si tengono? sì quando Nazareno Balani va a pescare con i mezzi in movimento le facce dei protagonisti sembrano tutti molto concentrati ma allo stesso tempo con un margine notevole ancora infatti i tre di testa comunque hanno un vantaggio di circa otto secondi quindi non riescono comunque a prendere il largo non c'è convinzione davanti mentre Cameron Wurf riesce tutto solo a tenere sotto controllo la situazione da segnalare da sottolineare anche questa prova di Ivan Basso perché se chiede lui quando ci sono tanti altri rivali in questo momento più quotati del campione Varesino ai suoi compagni di squadra di tenere sotto controllo la situazione vuol dire che anche Ivan Basso sta bene questo è un altro segnale è veramente una notizia importante è un bel viso tanto Cataldo in primo piano alle sue spalle basso diciamo Cataldo un bel corridore sempre piazzato al Giro d'Italia e tra l'altro 28 anni quindi ampi margini ancora di crescita per lui crescita che conferma anno dopo anno certo che approdare al Team Sky è una scelta ottima da un certo punto di vista ovvero economico però ti costringe poi a dover vedremo Cataldo tirare praticamente per Brad Wiggins per tutto il Giro d'Italia e per noi è un peccato perché è un ragazzo che può crescere veramente tanto e intanto è Ivan Basso proprio alla ruota si mantiene la ruota poi c'è il gruppetto della Stana con Tiralongo Aru e con Vincenzo Nibali bel gruppetto con la Scana poi Rebellin alle spalle di Rebellin Scarponi Cadele Evans e Ivan Santaromita con Pozzo Vivo e abbiamo anche Fernandez della Casa Rurale questi corridori in testa al gruppo non mi sembra di aver visto la maglia mentre siamo ai meno 7 per i 3 di testa che hanno in questo momento 18 secondi di vantaggio nei confronti del gruppo condotto da Cameron Wurf non mi è sembrato di scorgere nemmeno Bue quindi per la classifica generale evidentemente ci eravamo lanciati in previsioni che immediatamente alla prima occasione sono state smentite c'è tutta la possibilità per i grandi alla partenza di questo giro di rovesciare la situazione che sembrava compromessa dopo la semitappa di ieri vedete che il gruppetto dei migliori non sono rimasti più di una ventina 20-22 gli atleti che fanno parte del gruppo principale ecco i volti e i visi dei corridori del gruppo all'inseguimento dei 3 in testa Pirazzi Stefano Pirazzi della Bardiani CSF Pier Roland dell'Europe Car e Sitzov del Team Sky i 3 al comando con un vantaggio di una ventina seconda nei confronti del gruppo manca ancora tanto quasi 7 km 6 km 900 metri azione composta quella del bielorusso Konstantin Sivtsov stanno calcolando anche loro le energie mi sembra perché è ancora lunga ancora lunghissima questa salita può accadere ancora tutto e guarda qua Vincenzo Nibali parla con Agnoli suo fedelissimo Gregario Aru con il numero 12 alla sinistra di Agnoli tira lungo e Kessiakov in 5 della Stana Astana che ha fatto una buona prova ieri a cronometro segno che hanno una buona condizione è bella squadra si è costruito Vincenzo Nibali con esperienza tra l'altro non va dimenticato non lo vediamo in salita ma c'è sempre presente Alessandro Vanotti che l'anno scorso al Tour de France e quest'anno credo al Giro d'Italia si farà tanti tanti chilometri in testa al gruppo al vento grande grande corridore infatti non per niente Vincenzo Nibali si è deportati ed ecco Diego Rosa insieme a Fabio Aro i due della Palazzago sono passati professionisti due bei talenti dalla storia simile per molti versi perché uno faceva ciclocross l'altro faceva mountain bike intanto il distacco dal gruppetto l'avete visto in basso a sinistra il gruppetto della maglia arancione la maglia del leader del giovane ragazzo cieco della CCC Polsat Cerni quindi ci aspettavamo il trenino Sky prendersi in mano la situazione non è successo ci aspettavamo che Rodriguez e Buè potessero difendere quantomeno oggi la loro maglia non è successo adesso quindi basta previsioni per oggi dobbiamo attendersi di tutto Wiggins ha detto in conferenza stampa gli hanno chiesto una cosa riguardo al suo futuro gli ha detto ma se io sapessi il mio futuro farei uno show televisivo e mi pagherebbero anche tanto però ha dato una risposta acuta e probabilmente anche noi no? infatti Niemetz anche con la maglia della lampre lo show televisivo proviamo a farlo noi no lo fanno loro lo show televisivo per fortuna tu l'hai fatto in passato quando eri corridore io di show non ne ho mai fatti Cataldo a bocca aperta guarda in alto questa salita con tornanti hanno cominciato hanno fatto sette chilometri di salita sette chilometri di salita gliene mancano sei questo è il tratto più duro poi dopo il tronante si rifiata un po' e poi torna a salire 6 chilometri 300 metri quindi circa la conclusione di questa tappa per il gruppo qualcosa in meno per i tre Sizzo va a far l'andatura Pier Rolanda e Pirazzi il gruppo tra l'altro con questa inquadratura non si vede quindi secondo me hanno guadagnato ulteriormente vediamo adesso se c'è la conferma 30 secondi 30 secondi ci informa Radio Corsa in questo momento quindi la conferma dei numeri a quanto visto con l'inquadratura lunga si fa interessante si fa interessante l'azione dei tre che stanno sfruttando soprattutto non tanto la determinazione a mio avviso che ci stanno mettendo ma il fatto che il gruppo stia comunque sonnecchiando e qui Vincenzo Nibali informato naturalmente della situazione mette alla frusta i suoi compagni di squadra Vincenzo Nibali decisiva e drastica accelerazione alla velocità del gruppo imposta da Vincenzo Nibali insieme ai suoi compagni di squadra tutti lì tutti lì Aru alla ruota di Vincenzo Nibali e quindi sta bene perché quanto detto per Ivan Basso prima vale maggior ragione per Vincenzo Nibali adesso ha schierato tutta la sua squadra davanti a fare il ritmo Vincenzo Nibali vincitore della Tirreno Adriatico ma ha vinto la Tirreno Adriatico con un colpo incredibile perché ha fatto quello che spesso gli viene imputato di fare cioè un colpo che sembrava disperato siamo in onda anche sul TG di Rai Sport 1 stiamo vivendo la seconda tappa del giro del Trentino con l'arrivo in salita a Betrilolo Terme la situazione è quando mancano pochi chilometri al traguardo esattamente 5 chilometri al traguardo vede i tre inquadrati in testa alla corsa Pier Roland Francese Pirazzi Stefano Pirazzi in maglia bianco e verdina italiano e Sitzov in maglia nera del team Sky hanno un vantaggio di una trentina di secondi nei confronti del gruppo gruppo tirato però dalla squadra di Vincenzo Nibali che appare in forma insieme a Vincenzo Nibali intanto lo scatto di Sitzov quando mancano 5 chilometri e mezzo dal traguardo lo scatto di Sitzov quindi cambia ancora la situazione in corsa saputo del fatto che stanno aumentando dietro Pirazzi risponde quindi tra pochissimo avremo il finale di questa tappa siamo in diretta su Raysport 2 vi restituisco la linea e noi proseguiamo la nostra diretta scatto di Sitzov quindi con la stana che va a aumentare quindi l'andatura e proprio appena saputo di questo io credo che ci sia stato lo scatto del corridore del Team Sky si capiva che tutti avevano ancora qualcosa da dare infatti anche Konstantin Sitzov davanti non appena informato dell'accelerazione che stava imponendo Vincenzo Nibali con i suoi compagni di squadra è scattato davanti nel tentativo di sorprendere Spirazzi e Rolanda ha fatto un po' di fatica il campioncino francese a riportarsi sotto ma si sono riuniti immediatamente e qui siamo invece con le immagini dietro Valerio Agnoli in testa al gruppo Paolo Tiralongo in seconda posizione tutti i corridori del Team Astana con Vincenzo Nibali intorno al proprio capitano Ivan Basso Michele Scarponi e un ragazzino di 42 anni che si chiama Davide Rebellin nelle prime posizioni appena dietro al trenino del Team Astana non si arrende mai intanto vediamo l'inquadratura dall'altro proprio questa macchia celeste del team di Vincenzo Nibali sono sei corridori nelle prime sette posizioni di gara solo Ivan Basso c'è a frapporsi tra di loro tra l'altro il gruppo si è ridotto ulteriormente ho visto una maglia del Team Sky dentro ma mi sembrava Cataldo infatti perché prima bisognerebbe vedere se Bradley Wiggins si è staccato dal gruppo perché potrebbe essere stato anche quello il motivo per cui Vincenzo Nibali ha messo la squadra davanti assolutamente vediamo a Nazareno Balani di comunicare appunto no no c'è Bradley Wiggins è qui dietro a Pozzo Vivo ecco qui del Team Sky avevo avuto un'impressione sbagliata molto agile sta salendo Bradley Wiggins perfetta questa inquadratura che leva ogni dubbio di fianco a Diego Rosa intanto l'inquadratura dall'alto ritmo che è aumentato da quando l'andatura la sta facendo Valerio Agnoli Valerio Agnoli tira lungo Kesiakov Aru e Nibali Ivan Basso Scarponi Rebellina c'è anche Diacenco nelle prime posizioni per il Team Astana poi vediamo con Premislat Niemic del Team Lampre nelle prime posizioni ora da questa immagine capiamo invece che ne è rimasta poca ne è rimasta poca di gas per Costantin Sivzov sono al massimo anche Pierroland anche Pirazzi in terza posizione che stringe i denti nel tentativo di riuscire a mantenere il ritmo di Costantin Sivzov che invece sembra avere la forza di andarsene ha aumentato il ritmo perché ingannava molto che è rimasto composto seduto in sala attenzione allo scatto di Pirazzi per andare a prendere la ruota di Sivzov Sivzov vedete pedalata molto agile non dava l'idea della velocità senza scattare però ha messo in crisi Rolande grandissimo bravo Stefano Pirazzi che ha capito che il momento era decisivo ha stretto i denti e adesso Pirazzi con Sivzov davanti a tutti due metri di vantaggio questi non scattano questi guardano il loro rilevatore di potenza e accelerano e si regolano di conseguenza e visto Pierroland che si era capito che dei tre anche nello scatto precedente aveva fatto fatica a riportarsi su Pirazzi e su Sivzov che ha mollato la ruota dalla seconda posizione e bravo Stefano Pirazzi ad accorgersene e tentare di riportarsi immediatamente stanno guadagnando sono già al tornante intanto Pierroland bravo bravo perché è riuscito a riportarsi è calato naturalmente il ritmo di Sivzov che ha provato a fare il vuoto però hai visto come erano al tornante già vicini ecco qua hanno già passato il tornante anche il gruppo o almeno quello che rimane del gruppo c'è Pozzovivo intanto Valerio Gnoli credo che abbia esaurito il suo lavoro e guardate proprio dal retro del gruppo dalla pedalata dei corridori a Cacarurà si capisce quale sia l'andatura adesso si va veramente forte Bradley Wiggins continua Dario Cataldo che si è staccato e non c'è neanche Scarponi perché Niemetz attenzione Roland ha giocato tutte le sue carte ma adesso non ce la fa non ce la fa reggere il ritmo Pirazzi ancora con Sivzov bella azione quella di Stefano Pirazzi Sivzov davanti Pirazzi alla sua ruota due davanti mentre in formazione da Radio Corsa avevi avuto l'impressione giusta Andrea Michele Scarponi non fa più parte del primo gruppo Agnoli ancora qui era a tiralongo mi sembrava che si fosse staccato prima 1,20 in ritardo di Scarponi in questo momento e Niemetz il corridore della Lampre Merida che è rimasto con il gruppo dei migliori Ivan Basso ancora lì con una faccia molto molto serena il campione Varesino eccolo anche Cadele Evans Cadele Evans Ivan Basso il duello per il Giro d'Italia 2010 sullo Zoncolan Stefano Locatelli poi Mauro Sant'Ambrogio davanti a Sant'Ambrogio abbiamo visto Wiggins forcing continuo Diacenco Diacenco scusami si assomiglia comunque uno dei due Dirazzi si è staccato Dirazzi e Sitzov con quella andatura attenzione al bielorusso eh sì è guadagnato 3 chilometri e 300 metri tra l'altro adesso spiana un po' la salita da un po' di tregua dopo questo tornante ecco qua una decina di secondi già guadagnati da Sipsom nei confronti di Pirazzi non si è mai alzato sulla sella sempre pedalata agile senza scattare pedalata agile ma efficace naturalmente controlla il suo rilevatore di potenza e si regola di conseguenza sa conosce il proprio limite e in questo modo ha così fatto letteralmente fuori sia Pirazzi e sia Rolande in precedenza e che Costantino Sivzo è lanciato a questo punto verso una grande chance di poter conquistare questa tappa dovrebbero mancare circa 2 chilometri all'arrivo che tra l'altro ha un vantaggio perché prima dell'erta finale c'è un leggero faso piano Pozzo vivo Pozzo vivo e Nibali vediamo perché hanno rotto gli indugi dietro nel gruppo ecco Bradley Wiggins con la ruota Sant'Ambrogio e Cadele Evans che prova a riportarsi credo proprio che sia Vincenzo Nibali là davanti con Domenico Pozzo vivo con Wiggins che sta chiudendo Wiggins chiude in questo momento Diacenco davanti a Wiggins e dovrebbe essere sì Nibali davanti è stato lui ecco però Sant'Ambrogio anche lui con molta calma attenzione Cadele Evans sta perdendo qualche metro Cadele Evans sta perdendo qualche metro intanto non ce la fa neanche Rebellin stanno riprendendo Rolanda non ce la fa Rebellin non ce la fa neanche Niemic e quindi il gruppetto di testa però davanti a tutti c'è Sifsov poi davanti a quel gruppo anche Stefano Pirazzi quindi situazione in corsa con Sifsov davanti a tutti poi in seconda posizione Pirazzi dietro ormai Rolanda raggiunto dal gruppetto di testa capitanato da Vincenzo Nibali intanto questo qui siamo ancora dietro con Nemez Rebellin Locatelli e i due da Cana Rural uno dei due da Fernandez e qui siamo invece sul gruppo alle spalle di Sifsov Roland Nibali Wiggins naturalmente Wiggins si mantiene passivo davanti c'è il suo compagno di squadra non è ancora stato raggiunto invece Stefano Pirazzi che si mantiene in seconda posizione accelerata altra accelerata di Vincenzo Nibali raggiunto Pirazzi in questo momento quindi Sifsov è dietro il gruppo Nibali Nibali Pozzovibo Bradley Wiggins Sant'Ambrogio Cadelevas Pier Rolanda prova a rimanere con loro bravo Cadelevas che ha stretto i denti e si è riportato e poi Diacenco a chiudere questo gruppetto hanno rallentato perché mi sembra anche Fabio Aru Ivan Basso e Fabio Aru Ivan Basso e Fabio Aru e intanto attenzione che c'è un buco Cadelevas ha fatto il buco e quindi Nibali Pozzovivo Wiggins e Sant'Ambrogio hanno guadagnato qualche metro ecco Aru con Pirazzi sono confuso non c'è più Ivan Basso c'è più Ivan Basso è staccato Ivan Basso e attenzione Sivzov due chilometri due chilometri per Sivzov due chilometri per Sivzov adesso attenderemo il passaggio di due chilometri magari Radio Corsa riuscirà a fornirci quanto esattamente è il vantaggio cronometrico che ha Sivzov nei confronti del gruppetto dei migliori del gruppetto di cui fa parte Vincenzo Nibali Bradley Wiggins Domenico Pozzovivo che adesso si volta e guarda i suoi avversari Aru sta perdendo qualche metro ma cerca di tenere duro il giovane ragazzo 18 secondi hanno guadagnato tanto adesso si guardano si guardano non c'è naturalmente determinazione nel seguimento tutto il lavoro sulle spalle di Vincenzo Nibali che ora rilancia l'azione secco secco parte Vincenzo Nibali è partito secco questa volta Vincenzo Nibali come aveva fatto al passo della bocchetta e adesso c'è Domenico Pozzovivo che si alza sui pedali Sant'Ambrogio ma Wiggins adesso attenzione a Wiggins alla sua progressione attenzione alla progressione sta passando proprio per Vetriolo Terme Nibali controlla la situazione alla sua ruota Pozzovivo Sant'Ambrogio Wiggins pedala agile e cerca di riportarsi così come cerca di riportarsi sotto anche Aru un scatto secco ma ecco che Wiggins ritorna Pozzovivo si studiano ancora però Sizov è ancora là davanti ricordiamo che Sizov è ancora là davanti solitario ecco qua si volta li vede li vede però ha un bel vantaggio ancora ha ancora un bel vantaggio circa 200 metri di vantaggio per il bielorusso che ha comunque una pedalata abbastanza appesantita in questi ultimi centinaia di metri di salita mentre Brady Wiggins in progressione serenamente ma a mio avviso sta pagando un po' gli sforzi il campione inglese riesce a riportarsi su Vincenzo Nibali su Domenico Pozzovivo e su Mauro Sant'Ambrogio che fa fatica a tenere il ritmo di Vincenzo Nibali a mio avviso adesso controlla e prova a dargliene un'altra di botta mi sembra comunque più fresco il campione siciliano Nibali grande due volte ha scattato Pozzovivo Sant'Ambrogio Wiggins sono rimasti in quattro all'inseguimento di Sipsov vediamo con l'inquadratura dell'elicottero un bel vantaggio Sipsov è già oltre il tornante e dietro mi sembra che si stiano studiando un po' troppo stanno pensando forse alla generale stanno forse pensando alla generale intanto Sipsov in apnea da 8 km con la bocca aperta però pedalata ancora agile e fluida certo che se dietro si guardano arriva Sipsov eh sì non si può più tenternare ma d'altronde tutto il lavoro è sulle spalle di Vincenzo Nibali mentre Sant'Ambrogio ora prova a sorprendere tutti Domenico Pozzovivo risponde anche al Lombardo della Fantini Selle Italia potrebbe essere questa l'occasione nel momento sta andando sta andando bene Mauro Sant'Ambrogio cosa è cambiato l'anno scorso Sant'Ambrogio è cambiato che adesso sono una famiglia sono con Luca Scinto che lo chiama ogni mattina Sant'Ambrogio è un corridore trasformato in prestito dalla BMC per un anno intanto ultimo chilometro per Sipsov che l'ultimo chilometro non è con grandi pendenze controlla la situazione la parte più difficile è terminata guardiamo adesso il cronometro anche noi per stabilire quanti secondi ha Sipsov e quanto soprattutto quante energie gli rimangono perché ha una decina di secondi non di più 15 secondi tanti tanti 15 secondi vediamo Sant'Ambrogio quanto ne ha però è partito e li ha lasciati lì si è visto subito Mauro Sant'Ambrogio grande convinzione questo ragazzo che allontanato dal lavoro di Gregariato gli ha dato i gradi di capitano scinto e sta facendo un grande inizio di stagione lui tanti secondi posti e oggi forse rischia ancora un altro secondo posto lo vede si sta avvicinando tantissimo però manca poco manca pochissimo è un bellissimo duello a distanza fra Mauro Sant'Ambrogio e Sipsov Vincenzo Nibali prova dietro a creare delle difficoltà e si sta ormai portando su Mauro Sant'Ambrogio mentre qui siamo su Sipsov ormai avviato mancano per lui non più di 400 metri all'arrivo e con il cartello dei meno 500 per il bielorusso e soprattutto il falso piano che lo aiuta 500 metri fossero stati di salita ma per Sant'Ambrogio adesso è dura durissima Sipsov galvanizzato controlla la situazione dietro controlla la situazione Sipsov 400 metri bella l'azione di Sant'Ambrogio ma non sarà sufficiente 200 metri per il campione bielorusso si volta non ce la fa Sant'Ambrogio riprenderlo va a vincere Sipsov e lui Kostatin Sipsov partiva un chilometro prima vinceva Sant'Ambrogio invece vince meritatamente Kostatin Sipsov seconda posizione Mauro Sant'Ambrogio e adesso arrivano Nibali e Wiggins Nibali e Wiggins c'è il duello tra i due vediamo no non vanno neanche lo sprint arrivano con Wiggins che passa con Wiggins complimenti tra i due Pozzovivo arriva anche Pozzovivo a 28 secondi arriva Stefano Pirazzi Fabio Aru bravo Pirazzi bravissimo anche il ragazzino Fabio Aru arriva con Aru un altro compagno Diacenco Rolande Cadelevans anche loro sprintano grande grinta di Cadelevans transita con 46 secondi di ritardo da Sipsov e adesso arriva il gruppo con Stefano Locatelli Niemets bel segnale anche per Stefano Locatelli quest'oggi poi arrivo dei Cardoso suo compagno in squadra García poi abbiamo visto arrivare anche Butler della Champion Sipsov agile agile è andato fino a cogliere il successo finale importante per Sant'Ambrogio i secondi guadagnati nei confronti degli altri deve recuperare tra l'altro Ivan Basso arriva adesso con 1.33 insieme a Rebelli e adesso corridore dell'Androni Venezuela in arrivo domani altra tappa con un profilo altimetrico Diego Rosa Diego Rosa il primo dell'Androni altro giovanissimo che si è messo in luce su questa salita se c'è stata andatura regolare per la prima metà della salita non appena Vincenzo Nibali ha preso in mano la situazione con la propria squadra la corsa è letteralmente esplosa e c'è stata grande selezione bravo Asifsov che ha resistito bravo Sant'Ambrogio che ha provato a recuperare la situazione e ottimi segnali naturalmente da Vincenzo Nibali e attenzione Bue Bue bravissimo bravissimo Maxime Bue va a prendersi la maglia 2.25 bravo Maxime Bue aveva un bel vantaggio e l'ha difeso gli rimane ancora un gruzzoleto da difendere Maxime Bue quindi è andato su con il suo passo non è mai stato nel gruppo di testa ma è stata una scelta intelligente la sua non è mai andato fuori giri consapevole di non essere in grado che si accove sta arrivando di non essere in grado di appunto tenere il ritmo dei migliori è salito con il proprio passo e ha fatto meglio di coloro che hanno condotto in porto la fuga di ieri quindi indosserà la maglia ciclamino al termine di questa tappa e qui gli ultimi 50 metri di Konstantin Sipsov un attacco a inizio salita il suo un attacco che l'ha premiato sono partiti lui Pirazzi e Roland e lui è arrivato primo peccato per Mauro Sant'Ambrogio perché forse 500 metri prima bastavano però non era semplice dietro poi si sono studiati un po' troppo vedete Sant'Ambrogio è proprio là meno di 50 metri di distacco da Sipsov e poi l'arrivo in passerella 4 secondi il distacco ha guadagnato 15 secondi Sant'Ambrogio nei confronti di Nibali e Wiggins però gli era dovuto pagare nella cronometro a squadre diventata anche questa una consuetudine una consuetudine tra i due Vincenzo Nibali e Bradley Wiggins fin dal tour del 2012 quando arrivano Wiggins va a complimentarsi con Nibali e Nibali chiaramente risponde con un gesto di cortesia ottime prove anche da Bradley Wiggins diciamolo non so se Beppe Conti questa volta io credo che dovremo lasciare spazio alla freccia ballone chiede una conferma dalla regia io purtroppo non sento la regia di Nazione Ballano ci dicono che possiamo andare avanti no mi riferivo alla dichiarazione di Beppe Conti che ha scommesso che Bradley Wiggins non sarà in grado di vincere il giro certo che oggi ha dato segnali da qui a vincere il giro naturalmente la strada è ancora tanta ma ha dato veramente segnali importanti il campione olimpico sia lui che Nibali insomma dopo quest'oggi però attenzione anche a questo Mauro Sant'Ambrogio è vero che sta andando fuori tutta la stagione è vero che è un'incognita perché in passato non ha mai dimostrato però sta andando bene anche logicamente quanto hanno fatto vedere quest'oggi hanno preparato il giro stanno preparando il giro sia Nibali che Wiggins hanno dei team con tutto rispetto per la Fantini Selle Italia naturalmente attrezzati per 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 lo scopo e quindi insomma sono loro i naturali favoriti ma bravo naturalmente a Mauro Sant'Ambrogio e allora bravo Sant'Ambrogio ma bravissimo Costantin Sivzov al microfono con Enrico Cattaneo Ed eccoci qua eccoci qua allora con il vincitore di questa durissima tappa appena arrivato ancora stremato le prime impressioni Costantino per me quest'anno era difficile dopo l'anno scorso infarciugno che a Tour de France ha rotto gamba era stato un grande comeback adesso si può dire che sono tornato sono pronto di aiutare il mio capitano e fare qualche successo anche io grande prova certo tutti aspettavano Wiggins ma se può contare sulle gambe di Costantin Sivzov direi che la Sky Pro Cycling è messa davvero molto bene sì abbiamo dimostrato che non vinciamo solo tutte le gare con Bradley Wiggins e Chris Froome che abbiamo in disponibilità anche altri campioni e hanno possibilità di vincere tutti perché abbiamo in squadra tutti i corridori forti tutti che possono dimostrare di una vittoria a due vittorie belle un'ultima cosa poi ti lascio ovviamente alla premiazione ci si può ancora fare un pensiero a questa classifica di giro del Trentino che dopo questa prima tappa di ieri con quella fuga inaspettata ha dato un grande distacco un margine ai primi alla classifica siamo qua per prova generale prima del giro oggi vediamo che distacco io Bradley e poi ci pensiamo in prossimi giorni penso facciamo un spettacolo per questo grande giro l'avete fatto oggi lo spettacolo grazie a Sius a voi la linea Sius ha 13 a 9 Wiggins a 3,48 davanti a Wiggins c'è Kocknechnikov che era il ragazzo del Rusvelo in fuga l'altro giorno ieri Nibali a 3,57 ha fatto un passo in avanti Sant'Ambrogio che adesso è a 4,06 quindi ha guadagnato qualcosa adesso ha 9 secondi di ritardo da Nibali in virtù anche degli abbuoni e perché ha guadagnato 6 secondi di abbuono oggi e poi ha 18 secondi di ritardo da Wiggins adesso Sant'Ambrogio che quando scatta in salita può far male a Bradley Wiggins ecco qua la classifica generale in grafica ve la raccontavamo prima Maxima Bue 3,19 ancora di vantaggio su Konstantin Sivtsov 3,35 su Kochetkov 3,48 su Bradley Wiggins 3,57 su Vincenzo Nibali poi Rodriguez un tracollo 4,03 Rodriguez aveva 6 minuti di vantaggio quindi ha perso più di 10 minuti oggi Sant'Ambrogio 4,04 abbiamo visto nei primi 10 anche Fabio Arul giovanissimo neoprofessionista del team Astana e qua Sivtsov riceve il premio Betriolo Terme Val Sugana e qua speriamo che non faccia quello che ha fatto ieri Bradley Wiggins cioè che la bottiglia la teca tutto viene ad un'altra scuola di solito i piloti di Formula 1 bevono un sorso di bottiglia poi la passano ai meccanici e ogni squadra ce l'ha detto ad apprendere il bottiglione di sfumante sotto il podio vedi festeggia e poi lo appoggia speriamo ecco esatto delicatamente e poi la foto di Rito con le miss è stato un bel finale di tappa ma ancora due splendide tappe ci attendono qui in Trentino abbandoneremo lo splendido scenario della Val Sugana domani per arrivare a Condino la partenza è da Pergine Val Sugana e l'arrivo a Condino si con due gran premi della montagna ma con tante altre salite che non sono segnate come gran premio della montagna 176 chilometri una classica tappa che potrebbe creare delle difficoltà se ci sarà più insomma un'altra bella dedica per sua moglie dicevamo ieri che in dolce attesa ad agosto diventerà papà Maxime Bouet non vinceva dal 2010 ieri ha rotto il ghiaccio è proprio Alfredo Martini che va a consegnare la maglia al francese Maxime Bouet che si riporta in testa la classifica generale il suo vantaggio domani partirà da Pergine Val Sugana per arrivare a Condino con un vantaggio di 3 minuti 2019 su Konstantin Sifsov colui che ha conquistato la tappa qui a Vetriolo quest'oggi ed ecco qua bella l'immagine l'immagine perfetta direi per chiudere ma dire non cambiate canale Freccia Vallone grandissimo ciclismo su Rai Sport domani 14.30 la diretta del Giro del Trentino Maxime Bouet leader della generale Konstantin Sifsov ha vinto la seconda tappa con arrivo a Vetriolo Terme da Andrea De Luca Silvio Martinello dalla regina Nazareno Balani dall'Itacento dei nostri tutti operatori di movimento un buon proseguimento con i programmi di Rai Sport